Jacopo Furlan è un nuovo portiere del Catania, come nasce dopo la fine dell'esperienza con il Perugia questo secondo tempo catanese? È stata una cosa nata così, all'improvviso. Io ho concluso la mia avventura in bianco-rosso ieri e dopo la mia rescissione c'è stato un contatto. È stato tutto molto veloce e molto voluto perché abbiamo trovato l'accordo in pochissimo tempo, c'era grande volontà da parte di entrambi. Non era l'unica possibilità per te? Sì, si erano profilate diverse possibilità, anche in categoria superiore, però ha prevalso questo sentimento che provavo anche un po' di rivalsa perché sono stato qua in un periodo difficile dove comunque le cose non andavano bene e avevo grande voglia di tornare, di dimostrare. Cosa ti aspetti sul piano personale anzitutto? Io sono venuto qua per essere a disposizione, per dare il meglio di me stesso al Catania, aiutare la squadra e come ho detto prima dare tutto a me stesso. Non ho aspettative, le scelte le fanno gli altri. Per quanto riguarda la squadra, insomma, ovviamente mi aspetto per quello che ho visto e per quello che spero una grande crescita del gruppo. Dopo il primo allenamento con i nuovi compagni puoi parlare giusto di sensazioni, però spiegacele. C'è una qualità incredibile, i giocatori sono fortissimi, non li scopro certo io, ho tanti ex compagni che ritrovo molto molto volentieri. Che dire, ho fatto alla fine un allenamento e sono molto contento di quello che ho visto e molto speranzoso. Ecco, questo mi fa veramente ben sperare quello che ho visto come prime impressioni. La squadra deve fare quello che chiede all'allenatore, stare uniti, compatti, grande voglia di portare a casa il risultato. Le cose verranno da sé con la qualità di questi giocatori. Ai tifosi del Catania ti senti dire qualcosa adesso? Mi sento di dire che sono tornato e mi sono sentito subito ben voluto. Vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto e di stima e sono tutti contraccambiati. Un saluto grande e un abbraccio a tutti.